Quindi la presentazione, stavolta di Lilo to Deep Podcast, perché io mi imbrano sempre e faccio una figura del merda Ok E sicuramente questa parte la metterai in montaggio conoscendoti come preludio al video Ok, sì, la metterò, la metterò, la metterò Salve amici di Nerderia in compagnia, bentornati sul Deep Podcast No, sul Ah, sul? 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 Sul cosa? No, bentornati a Deep Podcast Ma la sigla poi gli fa meglio però E li farò, la sigla E li farò Quando non ti romperai coglioni Quando voleranno i maiali Cosa? Mi farà la sigla, signora Ad ogni modo, bentornati sulla nostra rubrica horror Che come ho detto, non fa paura a nessuno In effetti no Te fa un po' di paura? Un po' così No, in realtà fa ridere Fa ridere Sono molto comici i video più che horror Ma vuoi far ridere? Speriamo di sì Comunque, come al solito, mi presento Io sono... Io sono Harold Richards E lui è... Alessandro No Lui è anche... Varavan Faravan Facciamo uscire Varavan qui da qualche paio Ecco Questa volta testa in giù Bene, come da titolo Oggi parliamo di un argomento... Un po' particolare L'unico argomento che mi interessa, tra l'altro Di quelli discussi finora E che abbiamo fatto fino adesso Che abbiamo parlato fino adesso No, nel senso che almeno questo è un argomento che un minimo rispetto agli altri E' tutte stronzate, beh, per lo più Eh, sì Eh, scusami Una era i lettigliani e l'altro era l'esorcismo Cioè, due cose che sono né in cielo né in terra L'esorcismo Che sono né in cielo né in terra E' bestemmiata Il Fantasco invece è l'argomento serio Finalmente sarà l'argomento serio Eh, beh, perché comunque è un minimo ciclito, capito? Non al tipo... Tipo con lenzuolo, però In generale ha... non so come si dice Paranormali Paranormale, sì Eh, questo sì Paranormale Il video... Parlerà di fantasmi Parleremo ovviamente di case infestate Parleremo di... Di porco... Porco... E' bestemmiata Ecco, partiamo da questo Come lo intende il fantasma? Un essere umano Normale Però ovviamente Potrei essere anche io un fantasma, quindi Eh sì, definitivamente sì Perché non... Cioè, non me lo immagino nemmeno Forse... Qual è il suo rumore? Il fantasma Il fantasma di Siri Eh, me lo immagino però Caso me è un po' più cadaverico Mmh Perché è morto Eh, ma non è tipo zombie? Cioè, qual è il... No, 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 è così È normale Però Giuseppe, essendo un fantasma Può apparire, andarsene A volte forse è incorporeo Ah Però c'è di una cosa Che alcune storie di fantasmi Prendevano oggetti Oggetti nostri Tipo ombrelli, eccetera, eccetera Era come un fantasma È così che lo chiami tu? Noi lo chiamiamo Rapina continuata di camion Aggressione Cioè, passare attraverso le pareti Allora, in generale Un fantasma deve essere fatto di materia Perché qualunque cosa in questo universo È fatto di materia, giusto? Sì Tuttavia, quando un corpo muore Sai quella leggenda che perde 5 grammi Quella cosa E si pensa che è l'anima Mmh Eh, non era quello È stato smentito Sono... è aria o gas Ah beh, sì, ma lo immaginavo Tantasi senza dubbio Di fantasma scorreggiatore Quindi deve essere forse fatto di materia E come può la materia collidere Con un altro oggetto E passarci attraverso, capi? Eh, in effetti Quindi non sono fantasmi Eh, questo è il fatto Quindi al massimo io penso Che si trasportano Non lo so Non penso che sia tipo visione Della Marvel Che può passare attraverso le cose Tu invece come lo immagini un fantasma? Io... Io... No, no In realtà io immagino Essendo molto legato Ad una visione matematica Della realtà Io immagino Che tipo ci sia Un codice binario Esatto Ci sia una matematica Che regola la realtà Che è la vita Quella nostra carne Sangue Ossa Esatto Perché appartiene a un altro Universo in cui è gestituto Un altro tipo di matematica Esattamente Però alle volte ci sono degli errori Delle cose che non calcoliamo Quindi può... Capitare che qualcuno Viada In realtà C'ho anche un'altra visione Però per sapere Qual è questa altra visione Potete andare su Amazon E potete andare a cercare I guardiani Della mia Marchetta No scherzo a parte Andateci Mi sono un pochino informato Il minimo Che mi sono informato Alcuni vedo La differenza tra ectoplasma E fantasma Perché l'ectoplasma È effettivamente La materia Di cui è fatto Il fantasma È come se il plasma Ossia il sangue Fosse la nostra materia L'ectoplasma È quello di cui è fatto Invece viene scritta come Viscita morbida o solida Fluido o vaporosa Fredda ma asciutta al tatto Fa schiuma Ma non è un sapone Che cos'è? L'ectoplasma fuoriuscirebbe Almeno in alcuni casi Oltre dalla bocca Da qualsiasi orifizio del corpo Sai che bello Mamma mia Compreso orecchie Naso, occhio, ombelico Capezzoli e vagina Cioè no In pratica Il medium fa la seduta E dal suo corpo Esce sta roba Che assume forma umana Tipo di braccia Gambe Capito? Ah ok Quindi la sostanza Però comunque Se il medium è potente Il fantasma E' soggetto Al suo volere Tecnicamente Non poteva che cazzo vuole E in base a che cosa Il medium è potente Oppure no Ebbe penso Forse di volontà Oppure i poteri psichici Quei poteri stupidi Capito? Che viene più umana Alterazione accento No Evocazione Evocazione Io non sento la sua voce No aspetta Avverto qualcosa Dobbiamo distinguere Dobbiamo distinguere anche I vari tipi di fantasmi E quindi Parte già adesso La classifica Solita Di podcast La classifica Di fantasmi Sì La differenza tra Poltergeist Il primo è il poltergeist Che esiste anche un film poltergeist Che tu Non lo hai sicuramente Non lo hai visto È uno spirito chiassoso Il termine di origine tedesca Descrive tutti quei fenomeni Come lo spostamento di oggetti Il rompersi di piatti Lo sbattere delle porte Ma anche voci e rumori Aspetta Sarebbe quello che sposta i divani Gli oggetti Esatto Il poltergeist Da quello che abbiamo Insomma Che ho letto E ci siamo informati È un È quello che viene definito Il caotico Non necessariamente Proviene da una persona Realmente esistita Semplicemente Sono dei residui Impazziti Folli Di ectoplasma Che creano Questa Creatura Pix dentro il libro De Harry Potter Fa certe cose Ai limiti dell'omicidio E certo Certo Perché sono folli Sono pazzi Residui psichici Appaiono sempre Nello stesso identico modo Nello stesso opposto Facendo gli stessi gesti È uno spettro Ambasciatore di morte Si manifesta ai parenti Di una persona morente Con le sembianze Del malato Ah Cioè Aspetta Non chiedi su ultima parte Ah quindi C'è in pratica Io ho il cancro E arriva questo Che prende le mie sembianze E vada mamma È un ambasciatore di morte È un ambasciatore di morte Ah per digli Vedi che more Eh sì 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 Non c'è più niente da fare Signora Deve passare il cavallo Di San Bartolomero Che se lo venisse a peghiare Col suo sacco nero Così smette di soffrire Gli spettri ciclici Fantasmi innocui Che appaiono ciclicamente In un certo posto Il ricordo Di un avvenimento A loro caro Temuto Per esempio Dei soldati Sul campo di battaglia Dove hanno perso la vita Ah tipo Che tipo In quel punto È morta quella ragazza Appare quel giorno In cui è morta Tipo il 14 di maggio Sì esatto Circolava un po' di tempo fa Su Youtube Non so se c'è ancora Un video Che si rifaceva Ad una leggenda Un po' famosa In Spagna Sta ragazza Stava lungo la strada Dicono Fermati fermati Diamo un passaggio Stanno sti ragazzi Danno il passaggio A sta ragazza Le chiedono appunto Da dove vieni E così via Che cosa ci fai Qui da sola Lei inizia a parlare E tutto Poi a un certo punto Quando arrivano In prossimità dell'incrucio Le dice Guardate questo qui È il posto dove Dieci anni fa Ho fatto l'incidente E sono morta E poi si sente La macchina Prende A me pare una strunzata Era proprio una cazzata Poi Fantasmi domestici Spettri che infestano una casa Anche nel corso dei secoli Probabilmente Ignari di essere morti Come cazzo fai A un accogerti Di essere morto Eh allora C'era Cioè È tipo il professore Di storia Della magia Di Hogwarts Eh sì sì Che si è alzato E era da fare lezioni Non sapevo che essere morto Esatto Eh sì sì Così è il professore Di storia della magia Eh non lo so Facciamo una cosa Adesso in posto produzione Mi ridoppierò Dicendo il nome Adesso muo soltanto la bocca Che cagata Comunque In pratica Come fanno a accogerti Di essere morto Di essere un coglione E perché forse Non c'è differenza Cioè aspetta Se non c'è differenza Mi stai dicendo Che se tipo Io mi sto cagando addosso Nella vita reale Anche da fantasma Dovrò andare al cesso Non lo so Mi nonno Ha fatta la guerra No? La seconda guerra mondiale Perché era del 18 E quindi Finita la guerra Tornata a casa Solo a qualche tempo Non c'erano strade asfaltate Quindi L'avevano lasciato Un po' lontano da casa Perché il camion Da lì passava Il camion dei militari E quindi è andato per il bosco Perché la sua casa Era in campagna E stava per il bosco Camminando per il bosco Incontra il suo vicino di casa Con cui anche c'è cresciuto Diciamo E chi è avvicinato Quello era Lui avremo per comodità Matteo Matteo E mio nonno dice Uè Matteo Ce l'hai fatta pure tu So contento Mi fa piacere No? Dice Ma mi fa un favore Tu diventa da mia mamma Quando vuoi Domani E digli che io sto bene Tutto a posto E che voglio bene Ti faccio sto favore Torna a casa Vendolo abbracciano Eccetera Perché non sapevano Se fosse vivo o morto Quindi Darono da mangiare Perché gli passano Quel che erano I fagioli comunque Erano uno schifo E lui mentre stava mangiando Dice Sapete che hai già incontrato Ho incontrato a Matteo So contento che ce l'ha fatta Ah ok Felì No vado a dormire Sarai stanco Il giorno dopo Gli dicono che Matteo era morto Da una settimana Comunque niente Io direi che Possiamo concludere qui Come sempre Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Mettete un like Commentate Condividete Iscrivetevi Attivate la campagna Degli avvisi Prima di sempre Aggiornare di nuovi video Faccio una chiusura Stile fantasma Ciao Grazie a tutti.